BICI IN CITTÀ Per animare la 32esima edizione di BICI IN CITTÀ Una pedalata ludico-sportiva che è diventata ormai un appuntamento fisso per molti Prima volta che partecipi? No, no, partecipiamo tutti gli anni Una cosa di famiglia? Sì, ormai sì, è diventata quasi per noi un rito Un percorso rinnovato in occasione dei 70 anni della WISP che organizza l'evento I partecipanti sono partiti dall'arco di Augusto, non più da piazza Chanou Hanno poi percorso le principali vie che costeggiano il centro storico di Aosta fino a Montfleurie Prendendo quindi la pista ciclabile in direzione SAR Massimo Verducci, presidente WISP Valle d'Aosta L'idea è quella di legare questi due poli aggregativi per i giovani Quindi la cittadella e il campo sportivo di SAR Dove c'è un bel progetto sociale che vogliamo in qualche maniera sostenere anche con questa manifestazione Dal campo sportivo del comune la pedalata a ritroso per approdare in piazza Chanou Entrando da via con 6 e 2 commis Non sono mancati gli ospiti della casa di riposo per Laurent Che hanno fatto il tragitto dell'arco d'Augusto a piazza Chanou Ed un gruppo dell'unione sportiva della scuola primaria proveniente dall'Alta Savoia Sono contenta di essere venuta Anche se il cielo non era così bello Ma è lo stesso, bellissimo Depi 10 anni, on participe a dei eschanges con l'ISP du Val d'Aosta e del Piémont C'è sempre un grande piacere di venire qui